Sono 132 gli ammessi alla graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale sociale nel comune di Città di Castello. L'elenco pubblicato da venerdì 29 maggio è consultabile all'albopretorio online del comune. Fra i 132 ammessi, 70 sono extracomunitari per una percentuale del 53%, 48 invece italiani per una quota del 36,3% sul totale. Fra questi due i cittadini di Umberti e 19 di Città di Castello. L'atto conta 32 ulteriori domande escluse dalla graduatoria. L'ultima risaliva al bando del 2010 per cui la pubblicazione della nuova graduatoria era particolarmente attesa. Il servizio, che ha per referente Francesco Grilli, sarà a disposizione degli interessati nell'orario di apertura al pubblico per l'esame della graduatoria e per qualsiasi altra informazione o chiarimento in proposito. Gli interessati da domani giovedì 4 giugno potranno presentare eventuali ricorsi contro la graduatoria e richieste di revisione del punteggio già assegnato. Dette richieste in carta semplice dovranno essere consegnate all'ufficio protocollo comunale o spedite tramite raccomandata con avviso di ritorno al comune di Città di Castello, servizio AERP in piazza Gabriotti 1.